Ciao a tutti ragazzi, io sono Mark e oggi siamo di nuovo su Destiny, nel terzo episodio credo, sto registrando un po' di fila, con la nostra Brigidina, di cui non abbiamo dato il nome ma glielo ho dato io, e siamo qui nella città, credo. Ma appartiene al passato, fino a quando non si sveglierà, sarò io la voce del viaggiatore, le tue domande saranno senza fine, guardiano. In punto di morte, il viaggiatore creò gli spettri, per cercare chi è in grado di usare la sua luce come arma. Guardiani, capaci di proteggerci e fare ciò che il viaggiatore non può. Cosa gli è successo? Potrei parlarti della grande battaglia secoli fa. No, è inutile. Di come il viaggiatore fu mutilato. Oh. O potrei narrarti del potere, dell'oscurità, il suo antico nemico. E invece non parlerò di tutto questo ma... Quante sono le storie raccontate per spaventare i bambini della città. Della storia di come ho perso i capelli. Ora quelle storie sono solo un ricordo. Ecco appunto. Ma... I bambini hanno comunque paura. Che c'entra? Ma cosa c'entra? L'oscurità sta tornando. Questa volta non ce la faremo. Le sue armate ci circondano. I caduti sono solo l'inizio. Cosa posso fare? Devi combattere l'oscurità. I guardiani lottano sulla terra e altrove. Unisciti a loro. Lo spettro ti guiderà. Confido che abbia scelto bene. Sì. Ne sono sicuro. Siamo una squadra. Eh già ragazzi, siamo una squadra. Ma andiamo via. Tra poco piove. Ok. L'osservatorio celeste è dall'altra parte delle stesse. Ed è circondato dai caduti. Bene. Quando vuoi. Raggiungi le vecchie coppie di comunicazione e scopri cosa stanno procedendo i caduti. Ma dai ma sono l'unico che non ha la moto. D'accordo. Vaffanculo. Non gli ha fatto niente. ah già è tentito ora la munizione o me le dà vabbè siamo dentro questa è una delle vecchie stazioni satellitari dell'osservatorio celeste è collegata alle colonie lunari ok perché mi metto sempre i brividi questi questi rientri limitati fine della corsa i caduti hanno sigillato la porta ma posso aprirla si ora vediamo che ci arriva i caduti non volevano che nessuno entrasse ok è un po' sporchino oggi eh non puliamo qui eh bravi e questo cos'è rilevo movimento e la cosa non mi piace per niente sapesti a me se è un po' troppo buio che dite scendiamo la luce non può essere non veale ok quanti cacchio sono per A sentire la musiquetta C'è una maliarda qui Se vedi qualcosa che fluttua nell'aria, distruggila C'è una maliarda Ma che è morta? Ma veramente? Ah, bene Però per fortuna è morta sta maiala E quindi anche un'altra missione è finita Bene Sta pistola Non si è comportata male Ok Pistola d'oro Pistolero Bene Uccisione precise 15 A sto giro abbiamo fatto meglio Ricompense Ah, bella roba ci hanno dato Attacco 31 Questo poi lo utilizziamo subito E questo forse Non lo so Comunque ragazzi un altro video qui è finito Su Destiny Spero che questo video vi sia piaciuto Se così fosse invito a mettere un mi piace A condividere, a commentare E anche a iscrivervi Perché non mi offendo Noi ci vediamo col prossimo video Bella ragazzi Ciao